Ciao ragazze, ordine abon arrivato, vi faccio vedere cosa ho ordinato per me, due consegne l'ho già fatte, una la mia amica che abitava al piano di sopra e l'altra una ragazza del bar del centro e io mi sono presa allora ho messo tutto qua così far away avevo preso il far away gold e volevo anche avere il far away normale eccolo qua ve lo recensirò dopo poi ho preso il famoso 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 today eccolo qua 100 ml di profumo io vi dico solo che questo qui l'ho dato stamattina alle 6 e mezza perché sono andata a spigno monferrato a prendermi le galline le mie ovaiole io ce l'ho ancora adesso che sono le 12 e un quarto quindi tenuta fantastica ve lo recensirò più tardi un bel bulacone di profumo anche buono allora poi ho preso una crema per le mani all'argan e alla glicerina e uno smalto della color trend rosa che poi è quello che io ho sulle unghie però questi due saranno regali che io farò alle mie clienti ad esempio alla ragazza del bar che ho consegnato stamattina ho regalato siccome lei mi ha fatto un bel ordine ho regalato la crema contorno occhi dell'avon quella quella viola che mi hanno detto che è buonissima l'ho presa per lei e gliel'ho regalata inoltre desiderava tanto il profumo soft mask gliel'ho fatto avere con il codice personale delle presentatrici così l'ha pagato solo 5 euro e 95 io se posso faccio anche vedere le offerte riservate a me perché non mi interessa cioè non c'è un grosso guadagno con avon quindi è giusto che secondo me anche le mie clienti possano avere a importi minori i prodotti e quindi a me non me ne fa niente se vogliono qualcosa delle delle cose riservate a me me le pagano va bene così poi ho preso questa lima per le unghie che ho già usato e mi è piaciuta moltissimo io non so se in vetro in che cosa ma mi è piaciuta molto costava solo mi sembra un euro allora la crema a mani 1,75 euro poi il today 16,95 il far away 14,95 la lima a unghie 2,50 euro lo smaltino mi sembra 2,50 euro sì 2,50 euro anche lo smalto e poi non ho preso altro direi in omaggio l'avon mi ha mandato che bello sono contentissima mi ha mandato il silky soft mask che l'ho messo ieri buonissimo ragazze che buono dolce leggero buono 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 poi sono passata da Lilia Puaca avevo degli sconti e siccome Debbie mi mette le curiosità Debbie my passion ho preso uno di quegli smaltini di L'Oreal all'olio e ho preso il numero 221 quando me lo darò poi ve lo farò vedere e poi ho preso questo qui l'ha recensito qualcuno di voi non so se Debbie o qualcun altro ora non mi ricordo il bagno a schiuma di Malizia che era in offerta 99 centesimi mi ci sono lavata le braccia perché dovevo subito sentire l'odore buono 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 dolce si infatti dice un accordo caldo inebriante e poi una cavolata una dietro l'altra ho comprato gli assorbenti e le candeline quelle alla citronella che io metto sotto al bruciessenze così hanno una doppia funzione e allora gli assorbenti e le candeline alla citronella col 25% di sconto e lo smalto e il resto insomma ho pagato 9 euro di tutto qui non so e poi mi hanno dato altri scontini da usare per oggi perché poi scadono io non credo di andare in centro quindi va bene così bacioni ragazze ciao grazie